Per aver segnato in modo indelebile la storia del rock italiano dal 1980 ad oggi, per oltre 40 anni, per l'impegno sociale della band a difesa dei diritti civili, umani e dell'ambiente, questa è la motivazione del premio alla carriera per Elite FIBA, arrivato dall'amministrazione comunale di Sansa, consegnato dal sindaco Vittorio Esposito a Federico Ghico Renzulli e Piero Pelù in occasione del concerto dell'altra sera. L'ultimo concerto del tour, l'ultimo girone, è stato la festa per il quarantennale 40 più 2, nonché il loro ultimo tour insieme. Al meeting del Cervati 2022 l'unica tappa estiva in campagna è stata celebrata la più grande rock band italiana, l'ultimo capitolo della loro straordinaria storia. Per oltre due ore Elite FIBA hanno portato un vero e proprio viaggio nei 42 anni di storia del gruppo. Poi era il 6 dicembre del 1980, quando si esibivano per la prima volta in un locale di Firenze, dando il via, davanti a 150 persone, ad un'incredibile storia musicale costellata di successi, come il Diablo, Spirito, Fata Morgana, Regina di Cuore, Il Mio Corpo che Cambia, oltre a tante altre, in tutto sono 160 quelle pubblicate. Hanno raccontato l'Italia e il mondo, guerra e pacifismo in tutela dell'ambiente, sostegno alle vittime della mafia, battaglie per i diritti umani, oltre che storie d'amore e rapporti umani profondi. E proprio per ciò che hanno rappresentato per la storia del rock italiano e per il loro impegno sociale, l'amministrazione comunale di Sansa ha voluto insegnare la band del riconoscimento alla carriera. Molto emozionato Pelù e più di lui Ghico, hanno ringraziato calorosamente la comunità di Sansa che nell'ambito del meeting del Cervati 2022 ha voluto conferire il premio per alti meriti artistici a Elite FIBA. Grande soddisfazione per il successo straordinario dell'evento è stata espressa dal sindaco esposito che principalmente ringrazia tutti quanti hanno contribuito alla riuscita dell'evento, sottolineando il ritorno d'immagine ed economico, poi però risponde alle polemiche, ai detrattori, dice, a coloro che hanno puntato l'attenzione solo ai rifiuti, dico, non guardate la pagliuzza negli occhi dell'altro ma magari la trave nel vostro occhio, già dalle prime ore della mattina di ieri si è provveduto con impegno e sacrificio a ripulire tutto, dove ancora non siamo arrivati ci arriveremo nelle prossime ore. Dunque conclude, piuttosto che parlare e sparlare, rimboccatevi le maniche e contribuite al bene della comunità. Grazie a tutti.